E adesso torniamo a parlare della tragedia alla ex Sloi. Il comune di Trento si sta attivando per il rimpatrio della salma del giovane Marius, morto nell'incendio della sua baracca. I servizi sociali intanto si stanno occupando anche del padre che questa mattina vagava da solo in città. Intanto chi lavora nel settore dell'accoglienza dice a Trento la risposta nei confronti dei senza fissa dimora è insufficiente. Stella Antonucci. E' stato ospitato a Villa Sant'Ignazio Daniel Barcea che questa mattina abbiamo incontrato a Trento disperato e solo. Era seduto intorno a mezzogiorno su una panchina in via Santa Croce. Tra le mani un biglietto per ricordare che suo figlio Marius, 23 anni appena, romeno, è morto bruciato mercoledì sera nella baracca in cui dormiva all'ex Sloi. Un padre angosciato che chiedeva aiuto per riportare la salma del figlio in Romania. Quando è avvenuto l'incontro la troupe Rai era insieme ad alcuni operatori e volontari che lavorano a Trento nel settore dell'accoglienza proprio per documentare le zone del disagio in città. Allertati, ambulanze e servizi sociali sono arrivati velocemente ma nessuno ci ha spiegato davvero perché quest'uomo in un momento così difficile fosse solo. Adesso Daniel Barcea è ospite di Villa Sant'Ignazio e dall'assessore comunale competente Maria Chiara Franzoia è arrivata la rassicurazione che tramite il fondo di solidarietà si garantirà il rimpatrio della salma di Marius in Romania. Sono quattro i senza fissa dimora morti a Trento negli ultimi 13 mesi. Due cittadini romeni tra cui Marius Arso nell'incendio di mercoledì sera, uno italiano e uno tunisino. Tutti accomunati da un'estrema povertà e dal non avere casa. Tragedie dell'emarginazione sociale che fanno dire a chi opera nel settore dell'accoglienza che a Trento le politiche sociali danno ancora risposte insufficienti. Non è cacciando i poveri che si risolve il problema dei poveri, è aiutandoli, è creare le condizioni migliori perché possono essere assistiti, è creare più giustizia sociale, non spostando i poveri da una parte all'altra. A Trento inoltre i posti per dormire sono pochissimi. I posti sono molto insufficienti, abbiamo chiesto all'ente pubblico anche perché non si aprono più posti letto e la risposta è sempre quella, cioè non abbiamo soldi e se apriamo più posti letto vengono dalle altre città. C'è più questa tendenza a voler nascondere, a voler in qualche modo considerare le persone più come dei rifiuti o qualcosa da tenere nascosto piuttosto che degli esseri umani da aiutare, e quindi comunque mettere in campo degli interventi anche a livello strutturale, non solo a livello di emergenziale, diciamo, di fornire l'accoglienza nel dormitorio, nella mensa, ma proprio cercare di costruire dei percorsi con queste persone.